Ragazzi, volevo annunciarvi che questa sera su questo canale siamo in live nella Big Hardcore Giocheremo assieme e mi aiuterete a fare molti achievement per rimanere prima in classifica Quindi non mancate, questa sera in live su questo canale Ciao a tutti capiuccini, benvenuti in questa nuova serie Erano mesi che chiedevate una Big Vanilla 2 Ma ancora meglio ragazzi, perché questa Big Vanilla 2 è diventata una Big Hardcore Con una quantità di creator, di youtuber, di tutto quanto che lo volete incredibile Perché guardate quanti siamo, siamo in tantissimi Ognuno ragazzi farà la sua hardcore, farà la sua Big Hardcore Ma cos'è di bello all'interno di questa serie? Oltre che appunto essere una sopravvivenza super estrema Abbiamo degli avanzamenti, degli achievementi incredibilmente difficili Che ci daranno la possibilità di fare tanti punti Come notate a fianco di youtuber c'è uno 0 Quello 0 poi diventerà un 1, un 2, un 3 In base a tutti quanti gli avanzamenti che faremo Ma ragazzi non solo perché gli avanzamenti sono super difficili Ed essendo un hardcore non vedo l'ora di tryhardare come un matto ragazzi Perché sono super curioso di vedere anche quanto sono forti gli altri ragazzi Qua abbiamo il nostro amico Sparks, ciao Sparks Inizia la nostra hardcore E partiamo subitissimo perché qua avranno già preso un sacco di legna Avranno già farmato altri oggetti, altre cose Io voglio prendere subito legna, andare poi subito in caverna a trovare diamanti Voglio allontarmi moltissimo dalla zona di spawn Dobbiamo anche costruire la nostra casa Ma ragazzi vi prometto che la casa all'interno di questa serie sarà incredibile Ve lo assicuro Quindi prendiamo legna Poi io ero vicino anche a Nico Qua abbiamo disperso tutte quante le persone Salutiamo per sempre lo spawn Voglio provare a seguirlo Anche se praticamente è sparito Non so dove Sparks ti vuoi unire a noi sei il benvenuto In realtà ti sto seguendo io Quindi va bene così Stiamo molto attenti ragazzi Perché comunque qua sono persone matte Che sono pronte a rubare cibo Rubare diamanti Rubare tutto quanto Ho visto che molti però andavano verso questa direzione Cosa che secondo me non conviene Perché per tutti quanti i minerali, gli oggetti È super rischiosa Perché potrebbero finire da un momento all'altro Io vado verso quella direzione là Dove molti non sono andati Già oggi comunque devo fare tantissimo progresso Perché appunto devo farmare veramente tanto Quindi voglio prendere già diamanti nel video di oggi E spero già di ottenere anche dell'ossidiana Questa caverna la lascerei completamente perdere Anche qualcuno che è passato Perché vedo che questo albero qua è stato completamente depravato Quindi ci sta Stiamo attenti perché non avendo neanche cibo È rischioso ragazzi eh Perché si potrebbe già morire in hardcore Senza cibo E cosa succede? Nel caso morissimo Perdiamo tutto quanto quello che abbiamo fatto Tutti gli avanzamenti che abbiamo fatto E anche gli oggetti più importanti Quindi qua io direi che mi faccio già quasi anche una bella barca Una crafting table che è da fare Quindi facciamo qua Uno, due, tre Perfetto Ci facciamo anche un'ascia E in più spammo Buona big hardcore a tutti Sono super Veramente diciamo una felicità Adesso incredibile Perché mi dà quella vibe Di quando è iniziata la big vanilla Ed è ancora più grande questa serie Wow Bellissimo Signora barca Per favore Grazie Hanno già fatto i primi achievement Loco e Burrins Viaggia a mille blocchi di distanza dallo spawn Assieme praticamente l'hanno fatto Assurdo Quindi loro sono i primi ad aver fatto la achievement Tu mi servi assolutamente Grazie Grazie anche per questa pecora Tutti gli animali sono troppo importanti ragazzi Perché non abbiamo cibo in questo mondo E fa fatica anche a generali Perché siamo in tantissimi nel server Quindi Dobbiamo stare molto attenti Smart ci ha trovato anche un villaggio Dannazione Cobblestone Che assolutamente apprendevi a fare una bella fornace Enel chiede se dormiamo di notte Ma mi sa proprio di no Non abbiamo i letti Quindi mi conviene anche fare una spada subitissimo Avremo già la prima morte sicuramente Spero non la mia Tutti quanti stanno facendo anche la achievement E l'insonnia Dovrei farlo anche io da un momento all'altro Perché in base a quando si è entrati nel server Non si è addormito Ok qua abbiamo anche già i primi schietri Ci sta Mi chiamo di non essere per favore la prima morte di questa serie Attenzione Primo achievement fatto Insonnia Due punti guadagnati No sento il rumore di tre denti Oh Sono matti I tre denti No C'è la cherry L'ho trovata anche io No i mini zombie Che incubo Prendiamo più il legno possibile della cherry Prendiamolo tutto quanto Ah c'è chi si nasconde come Kendall Ok ok ci sta Io invece voglio essere un po' più coraggioso Mi sa E prendere tutto quanto quello che trovo Anche perché Steph ha detto che c'è un achievement Dove devo craftare tutti gli oggetti della cherry Quindi devo assolutamente farlo Ma sono tutti quanti nascosti Vabbè ci sta eh Però un po' più di coraggio Da nazione in hardcore Dobbiamo essere coraggiosi Ecco Ho preso un sacco di danno per nulla Quanti cherry ho preso 15 dai Credo che possono bastare Quello è un villaggio Quello Quello dovrebbe essere Quello è un villaggio Yes Mi sa che abbiamo fatto Lo stesso giro Di marci Che ha appena fatto Anche l'achimente dei cherry enjoyer Mamma quello è tanta roba ragazzi Mi sa che questo qua lo faccio anche io È super oppure aver trovato così Questo bioma Quindi avanziamo anche noi di mille blocchi Almeno facciamo l'achimente Che siamo allontanati Allo spawn di mille blocchi E manca veramente poco E facciamo anche noi Questo qua della cherry È anche uno di villaggi abbandonati Speriamo ci sia del grano E che non abbiano preso tutto Soprattutto Ok mi prendo anche Queste corde Che saranno molto utili Perché ho visto che c'è un achievement Da fare Dove bisogna pescare anche 50 pesci Quindi è importantissimo Avere delle corde con noi Eh sì Sono passati Sono qua dei blocchi Maratoneta Altri 5 minuti Punti portati a casa Non siamo messi male Abbiamo 7 punti con noi In pochi siamo 7 punti Ottimo Però mi sa che tutto quanto Il grano Solo sono portati via Vabbè ci posso stare Dai ci posso anche stare Io a questo punto Mi crafto una bella Ah no la spada ce l'abbiamo Per prendere queste Ragnatele qua Che sono super utili E craftiamo quindi Tutti quanti i blocchi Che si possono fare Della cherry Con calma Quindi qua facciamo Giusto un po' di oggetti Tra plate Slab Facciamo qualche Stick in più Perché almeno possiamo fare Le fence E i gate Che li facciamo in questo modo Ok Le trapdoor Poi la crafting table Credo che conti Una porta È da fare Il cartello Quindi facciamo 1 2 1 2 Poi cos'altro c'è da fare Credo che sia anche da prendere Questo scortecciato Quindi questo qui Lo scortecciamo per bene Lo prendiamo Droppo via la lana un attimino Droppo via Questo piccone Almeno possiamo fare Questo Che ci serve sicuramente E anche Questo qua Ci serve Scortecciamo 4 di questi Perché dobbiamo fare anche questo Le scale di cherry Ci mancano ancora È vero Facciamo anche le scale Ma bisogna prendere anche il ferro Per fare la chain Per fare le cordicine Del cartello Ferro che è là in alto Che vado a prendere assolutamente Vediamo se riusciamo a prendere Con un po' di dirt Anche Nico è passato da questo lato E ci prendiamo questo ferro Via 1 E via 2 Un po' di più Dannazione Potevate darmene Dove è andato? Ferro? Ok ancora qua Ferro 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 qua sotto Ottimo Questo è importante Mi serve per le chain Via Uh tanto Ottimo Questo poi lo sfrutterei Perché mi sa che ci serve anche fare Non questo Dannazione Mi serve fare questo E anche una barca Devo andare No però posso utilizzare comunque questo legno qua in realtà Vediamo Facciamo quindi il crafting prima della barca Quindi 1 E poi Questo qua Ok Vediamo come sta andando qua Recipe Eh sì Recipe La cement Ok ce ne manca solamente uno Che è questo qua delle chain Quindi 1 2 No Prima facciamo il nuggets Poi questo qua al centro 1 2 E 1 2 Ok Comunque questo ferro qua ce lo prendiamo molto volentieri Ho l'inventario che è stracolmo di roba Dannazione Eh Devo andare a prendere altre cherry Perché se no non riusciamo a finire l'achievement Quindi togliamo la corteccia questi E ora con questo ultimo blocco Dovremmo fare Questo crafting Quindi 1 2 1 E 2 Vediamo Yes 15 punti ragazzi E andiamo a 22 Insieme a Marci Ottimo E altri blocchi di cherry Me li porto via Perché comunque dovremmo farci una casa E magari con dei blocchi di cherry Sarebbe super ottima Anche se ho paura Che gli altri ve la verranno a griffare Che non è una cosa per niente bella Però siamo primi in questo momento In compagnia di Marci Ora però si mangia E mi sa che è arrivato il buon momento Di andare in caverna E mi servirebbe Solo della lava Dove droppare tutti gli oggetti di cherry Che in questo momento Mi sono craftato Questa sarebbe un'ottima caverna Però vorrei Cavolo una pozza di lava Che fino a 2 secondi fa trovavo Devo far fuori più zombie possibili Perché è dentro l'achievement Quindi voglio farne fuori Veramente tanti Ecco Ne parlavo di questo achievement E domi l'ha fatto Ci può stare Vale solo un punto Peccato Però vabbè Meglio di nulla ragazzi Perché potremmo diventare primi Possiamo vedere a che punto siamo Su questo achievement Vero? Che si fa qua Quindi Troviamo lo zombie Per favore Dov'è lo zombie? C'è l'uccidio di 10 zombie Che ha Ok siamo vicini Fa un punto E l'altro fa due punti con 25 Beh mi sa che rimanere fuori In realtà è molto logica Perché così possiamo fare più punti Per questo qui sono 3 punti per noi Caverna Urca Ottima questa caverna eh Perché c'è tanta roba C'è tanta roba Ma è super buia Però questo call me lo voglio prendere molto volentieri Con questo ferro in più potrei farmi Un'altra ascia Perché l'abbiamo appena finita Dai zombie per favore potete uscire In realtà ho finito anche il cibo cotto Eh Arrivo eh Un attimo ragno E devo fermare anche il cibo Perché non voglio morire per primo Classifica intanto Abbiamo Marci e me primi Nico secondo Alcuni sono a 7 punti Come Mr. Jake Parrins Anche Fere Domi a 9 Steph a 7 Non male Devo muovermi ragazzi Perché gli altri sono più avanti Sotto alcuni punti di vista Quindi devo correre Tra due e quattro shot E vadano più che bene Dai possiamo proseguire Mi servono zombie Zombie Per favore Eccone là un altro Andiamo subito Quanti me ne mancano Scusate Avamposto dei pillager Mi sono salvato le coordinate Non ve le mostrerò mai Ma Ottimo averlo scoperto così ragazzi Super ottimo Però non ci vado sicuramente ora Anzi Ho un achievement però Dei pillager Vediamo C'è un altro villaggio là Mamma mia che bella zona Altro zombie però Sto rischiando molto Però mi serviva questo zombie Via Me ne vado Loco ha fatto marinaio Che è marinaio? Nave che imbarca per 5000 blocchi Tu dovresti essere tipo Il decimo per forza Dai Oh Finalmente Siamo primi Siamo primi Abbiamo 23 punti Siamo primi Ottimo Via anche il creeper Loco ha fatto 5000 blocchi Ragazzi in nave Ok C'è un'altra cherry blossom Qua Non ho parole Queste abel mi serviranno Sacco per il cibo No il temporale Uh 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 Questa è una Strana situazione Barca E faccio anche i miei 5000 blocchi in mare Anche se in realtà Questo zombie come mi servirebbe Per contiare la cibo Mentre del demon slayer Quindi mi serve Vieni qua Zombie slayer Non so perché mi sia uscito Demon slayer Però campione Puoi morire Grazie Ok Prendo questo altro ferro Perché mi sa che Punto a trovare Un'altra pozza di lava Per andare nel nether Per fare anche crafting Dei legni di crimson E l'altro legno Quindi qua abbiamo già Una sorgente di acqua Che ci servirà più avanti Ho del ferro con me Sì Jake ha fatto Zombie slayer Però io già ho una crafting table Non voglio sprecare tutti gli item Parris è già nel nether Ottimo Mi faccio il mio secchiello Mi prendo l'acqua E ora devo cercare una pozza di lava Assolutamente Potrei andare giù in caverna Ma mi sa Che me la cerco qua in giro Perché ne ho trovate tante in giro Incredibile la mia efficienza Mentre sta cuocendo il cibo Sto nuotando Per far sì che mi si sblocchi Anche l'accigliamento Del nuoto in acqua Ovviamente Altri mille blocchi Loco ha trovato la mela OP No sta trollando Sta trollando Guardate cosa c'è qua Una bella pozza di lava Ottimo Allora Blocco di cobblestone qua Bacca d'acqua in questo modo Poi togliamo questo blocchettino Poi Prendiamo questo bucket Togliamo questi blocchettini Sono qua sotto E poi facciamo Uno E due Così fa Uno Due Tre E uno Da questo lato E uno e due Bucket d'acqua Stiamo tanto attenti Si piazza qua l'acqua In questo modo A me piace costruire Magari qua dietro Per essere un po' più safe Poi Bucket Facciamo Uno Due Uno qua E poi un altro qua Perfetto Abbiamo fatto il nostro super portale Ora Scaviamo qua della gravel Per della flint Per favore Vediamo se ce l'abbiamo Dirt Gravel Eccola qua No drowned Non è il momento Ve lo assicuro No no non laggare ora Per favore No mi è finita ora Uh che fortuna Si dai vieni qua Uno E due E per favore Tre Grazie No dai Vogliamo morire Vabbè non vogliamo morire Ok Ci craftiamo un bel acciarino E si entra finalmente Nel nether Questi sono altri cinque punti Se non mi sbaglio Quindi dovrei Ri Risuperare marci Per favore Nether Nether Degno del crimson Ottimo Scusatemi No 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 non è Non è momento Non è momento Mamma se mi ero Entrati veramente all'ultimo Prendo giusto un po' di quest'oro Perché mi servirà Almeno da droppare Ai pillager Anzi quasi quasi mi crafto Se riesco Almeno dei piedini in oro Per stare super tranquillo Oro preso Però questo legno qua È super importante Perché possiamo fare i crafting E fare tanti altri punti Ho una crafting No me la faccio ora al volo Riusciamo a fare solamente un lingottino Che ci può comunque stare eh Però voglio prendere più legno di crimson Possibile tornare nell'overworld E craftare tutto quanto legno Che ci serve per fare altri punti qua Bella faccia Ho fatto maratoneta uno Ci sta Quanto legno di crimson abbiamo Ce ne servono almeno 20 di questi pezzi Siamo tanto attenti ragazzi Tanto attenti Torniamo nell'overworld Vediamo se ci basta Perché questi sono 15 punti Se non mi sbaglio Come è stato anche il cherry Il cherry wood Vediamo quanti punti sono Appena rientrati Cortecciamolo E dovrebbero essere già punti questi Vediamo Vediamo Sì due Ne scortecciamo direi già sei Almeno dopo possiamo craftare Il sign Quello con le chain Quindi uno due tre via Poi di questo qua Dobbiamo craftare questo È un altro crafting Poi Dobbiamo prendere il legno base Fare questi Poi gli slab Pressure Scale Vabbè di questa roba qua In realtà io butto via questo Questo e questo Poi dobbiamo fare anche Le trapdoor Faccio degli stick Per fare sia i gate Che le fence Quindi uno Di qua E poi questo al centro E questi ai lati Che però non ce li fa prendere In questo momento Quindi via qui E ci prendiamo questo E questo E droppo via Uno e due E siamo già a dieci Ci mancano cinque crafting Uno è questo Che ci mancava Andiamo a fare la porta Poi il pulsante Ok E anche il cartello Però mi sa che non ci basta Il legno Proviamo Perché Uno due Droppiamo via un attimo Queste torce Facciamo questo qua E pareva che devo prendere Fuoco Dannazione Però ci rimane Solo uno Che dovrebbe essere Quello di chain Però noi abbiamo finito Il ferro Quindi dobbiamo andare A prendere del ferro Che spero che ci sia Qua in zona Marcus ha fatto 40 punti Per fare Quanto coppia era preso Però ci sta ragazzi Ci sta Quindi Marcus è molto avanti Ci sta Ottimo Ferro 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 Eccolo qua Mentre la cuoce Direi che però Devo tornare a prendere Altri blocchi di crimson Se no non posso fare Gli ultimi cartelli Mamma mia Che situazione Mamma mia Ok Non è tornato Vero no Meno male Ottimo Due chain fatte Era in una situazione Veramente difficile Ragazzi Per questo achievement Ma almeno Dobbiamo prima Scortecciare questo Bella faccia ci abbandona E graftare questo Ok Vediamo Fatto 25 punti Crimson King Ragazzi Abbiamo fatto tantissimi punti Siamo a 48 Ora direi che è il momento Di andare a farmare Per bene in caverna Mi sono anche salvato Le coordinate di questo Perché almeno Non lo perdo in giro Vorrei andare in caverna Entra da qualche parte Però non so da dove Nico ci sauta Ciao Nicuzzo Però comunque vorrei prendere Assolutamente tutto il bronzo Che c'è in giro Perché si fanno tantissimi punti Col bronzo Ed è molto interessante Questa cosa Perché Marcus Ha farmato tantissimo Tramite il bronzo Quindi Marci siamo molto attaccati Lui a 47 A 48 Marcus a 69 Perché ha farmato tanto Col copper Sono qui da 20 minuti Neanche più di tanto Mi sa che però Difficile trovarla Una caverna qua in giro Devo trovarla però Per forza Però tutto il copper Che c'è in giro Devo assolutamente raccoglierlo Quanto ferro Posso farmi un piccone No Dannazione Faccio tutto il pane Che posso fare Perché questo qua Ancora non l'ho craftato E ho fatto anche squalo 1 Che è la cimenti Quello del nuoto Che ho provato a far prima Solo che dannazione Qua non c'è nessuna caverna Vabbè c'è un sacco di copper Che devo prendere Torcifichiamo tutto quanto per bene Siamo arrivati finalmente In una caverna Che sembra semi decente C'è un glow squid Quelli sono importanti Per gli achievement Però il copper È troppo fondamentale ragazzi Qualunque roba io vedo Di copper in giro Devo prenderla Quindi qua Mettiamo torce E uuuh oro Ottimo Facciamo il ferro Almeno ci facciamo Finalmente un piccone Dovrei scendere Però Non ancora Secondo i miei calcoli Dovrebbero essere 4 stacche e mezzo Quelli di bronzo Che mi servono Quindi Non sono così tanto lontano Per il primo achievement Di copper Quindi continuiamo così Perché non siamo per niente lontani Finalmente un piccone di ferro Dannazione Metto a cuocere tutto il ferro Che No Cosa ho fatto Mettiamo a cuocere il ferro Qua c'è altro copper Ditemi di sì Per favore Redstone Questa mi servirà Per una roba dei minecart È importantissima da prendere Altri zombie Ottimo 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 Dove sei Campione Che non ti vedo Oh Bravissimo Diamanti Sì 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 Quanti Uno Due Tre Quattro Vai Ottimo 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 Perché posso far l'accidente Che lo droppo un mob Mi servirebbe uno zombie In questo momento Dannazione Ma No vabbè Non ci credo No vabbè Ma Craft Un singolo oggetto Fatto con il bambù Ok Tu mi servi Tu mi servi Campione Guardami Look at me Prendilo Prendi il diamante Prendi il diamante Dannazione Ok Altro bronzo Comunque ragazzi Per niente male Ti prego Prendi quel diamante Te l'ho droppato Ce l'hai È lì Per favore Mi serve più coal possibile Quindi devo distruggere tutto quanto questo coal Almeno posso mettere a cuocere il bronzo Uno E due Poi Di qua Mettiamo Uno e due Poi di uncraftare Tante altre fornaci Quindi qua ne abbiamo almeno tre Uno e due Almeno facciamo tutto quanto più in fretta possibile Qua c'è tantissimo coal in giro Quindi in realtà La logica sarebbe quella di Splittare Ogni cosa Per bene Anderoni fornace sta lavorando per il nostro obiettivo Intanto io mi prendo un bel po' di coal E anzi Mentre qua cuoce Faccio anche l'accemento della barca Che secondo me non è per niente difficile La barca l'ho lasciata in giro Lasciamo perdere Fa niente Ma almeno ce l'abbiamo Qua Barca Almeno facciamo due cimenti in un colpo solo Ho navigato un pochino Vediamo se intanto qua Cotto tutti quanti i pezzi di copper Più o meno Però intanto possiamo andare Ah qua Ah qua ha finito il coal Dannazione qua Come si è messi Possiamo andare a splittarlo Qua ha finito Ok Quindi qua Possiamo andare a mettere questo coal E questo va messo anche di qua Qua sta andando molto bene Abbiamo preso tutto Quello che abbiamo disponibile per adesso Più o meno Quindi qua possiamo craftarne altri Ma in realtà ce ne serve molto di più di coal Di copper scusatemi qua Quante ne facciamo Sette Ma i miei calcoli non erano così tanto sbagliati eh Perché siamo esattamente a metà Però Qua dentro ne abbiamo un'altra metà Di qua Ma mi serve altro coal No Lollo è morto È la prima morte della serie No 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 Lollo No Ah Grave Grave ragazzi Ora cosa succede Essendo che lui è morto Perderà tecnicamente tutti quanti gli achievement Ora lui è spettatore E gli verrà ripulito l'inventario Delle cose più importanti Se non mi sbaglio Urca Prima morte tosta Hai perso così 6 punti comunque Dai che sta arrivando la notte Dannazione Devo muovermi con questo achievement Vi prego Quanti ne possiamo fare ora ancora di blocchi Vai Continuiamo Ne abbiamo fatti Altri 23 In tutto 26 Ne mancano 6 Abbiamo fatto il calcolo giusto Per questo achievement Che è Dov'è 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 Non è qua Ma è qua 32 blocchi Ne manca poco ragazzi 20 punti sono 64 Sono altri 40 Tantissima roba Tantissima Vai 29 E intanto mi sa che si espona qualcuno in giro Vado ad eliminarlo Perché almeno Facciamo anche Tutti quanti gli slayer achievement Che sono super importanti Eccoli qua Gli ultimi blocchettini Che ci serviranno 20 punti Molto bene ragazzi In questo modo Abbiamo raggiunto I 71 di parrins E siamo dietro solamente A marques Che ha 14 Non male Ma qua stiamo ancora Farmando tantissimo Copper Il copper è fondamentale Ragazzi Ottimo In più Siamo crashati Un piccolo Rapid del server Dicevo In più Tra un po' Dovremmo sbloccare Insonia e Maratona Perché siamo vivi Da 5 giorni Quindi altri 11 punti In più per noi Che ci avvicinerebbero All'82 Quindi a 2 punti Da Marques Qua c'era altro bronzo Che mi prendo molto volentieri C'era anche di là Se non sbaglio Eccolo qua Signor Schietro 1 2 3 4 No eh 5 Grazie Ho pochissima vita Raga No leutube È morto con 23 Eh ragazzi Non voglio rischiarmela Non voglio rischiarmela Perché ho paura Ma 23 punti Sono tanti Dannazione E tra un po' Dovebbe darmi L'accement Sia della sopravvivenza Di 5 giorni E anche Del non aver dormito Per 5 giorni Direi che è arrivato Il momento di fare Mermere un'armatura Ragazzi Giusto per stare Un pelo più tranquillo Eccoli qua Gli altri 11 punti Che ci portano A 82 Ragazzi Io direi che Per questo video è tutto Siamo praticamente Tra i primi Steph ha fatto Quello del bambù Che gli ha portato 100 punti E tantissimo Se l'avessimo fatto Anche noi Sarebbe a 182 Quindi wow Siamo tra i primi Molto bene Noi ci fermiamo qua Ci salutiamo E ci vediamo In un prossimo video E vi ricordo Che questa sera Siamo in live Su questo canale Ciao